Omonimo e... Torni dietro! Lo dichiaro! Anonimo! No! No! Aspetta! Baffa! Bolivia che prende la macchina! No! Lascia! La Laura, gente, lì, lasciala! Dov'è? La macchina, la macchina! Lascia la macchina! No, due freni a mano! Dai! Vabbè, la macchina di su! Uuuuuh! Ma stai matta! Stai poco meno! Uuuuuh! Abbiamo 90 euro di beni! La Maserati di Modena! Non sa che brutta figura noi! Però questa era tutta gente forestiera! Erano tutti clienti! Era un figlio! No! Sì! Sì! Comunque ragazzi c'è freddo! Bisogna bere! Un pozzo a test dai! Domani poi le curve le fai tutte! Io ho detto che domani mi svegliano! No! 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 eh! No! Oh! Mammaaaa! buttasi la pasta! mamma! abbiamo fame! dica due tortiglioni a ragù o due arosette che sono meglio eh voi dove andiamo a mangiare adesso? a casa nostra il salame però fai tagliare quell'altro laio perché se no ti da due manate in faccia ma non c'è adesso bevi bevi non fanno bene stasera mi vuoi anche guidare allora va meglio va più dritta ma io son contento eh ma tu che partono eh? da qui la ah però! cos'è c'è? adesso è moletto complimenti è un turno bebe ehi ehi nooo no vedi me? ciao io ma io rispetto al momento qua va a carbone cioè come è quella cosa? no scurreggia bravo 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 ma Luca domani è pieno domani domani si ammazza insomma il signor però se lo scrivetelo domani sera